90, 91, 92 93, 94, 95, 96 97, 98, 99 100 Che fuori è fuori Che dentro è dentro Che fuori Ciao a tutti, Mattia! Ah, come finalmente arriva, mi chiesa il dottor balanzando un verde canale, al tessum d'intelette, buonissimo per sé, due tessum d'letter, onoratessum in tal procedere, ricchissimo ed facoltè. Sto aspettando il mio amico fagiolino, ma come l'amai che quei partirei una lettera? Chi l'avrà mai persa? Cosa porterà scritto? Se questa lettera tu leggerai, di gran spavento tu morirai. Ho, 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 ho... Agarica! Scappa Giulia, scappa! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!